Yeah, 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 yeah Una persona, una persona che aveva il coraggio di dire alla gente il suo messaggio Una persona è un dottore, è un cittadino E non poteva sopportare l'ingiustizia nel suo paese Una persona che aveva il coraggio Una persona è stata ammazzata perché è diventata pericolosa Una persona buona, una persona che combatteva il popolo Ricorda, è la sua bandiera Una persona è stata ammazzata perché è diventata pericolosa Una sola non può bastare con tante persone Si può cambiare una sola non può bastare con tante persone Si deve cambiare contro questo capitalismo Sempre più un selvaggio contro e posto questo Una persona da ricordare oggi, ma anche domani e tutti i giorni a venire Ernesto C'è che vada una sola, una persona E aveva il coraggio di dire alla gente il suo messaggio C'è tante persone Se hanno il coraggio Si può cambiare come si vuole Come si vuole Una persona Ernesto C'è che vada una persona Fucilato il 9 ottobre Una persona da ricordare per sempre Nella storia mondiale In ogni paese La sua bandiera Una persona Una persona Che aveva il coraggio Su cui Anche Sankara Tanti altri Anche Bob Marley Peter Tosh E le persone Un esempio Ma c'è che vada Era molto diverso Per aiutare La popolazione Che l'America Latina Di Bolivia E' stato preso Il suo corpo Senza la testa Senza le mani Nascosto Dove nessuno sa Una persona Che aveva il coraggio Di dire alla gente Il suo messaggio Non è una reliquia Perché lui è nell'aria E' nel vento Che soffia Sempre E' nell'aria Di chi lotta ancora Una persona Una persona Non era iscritto A nessun partito Una persona Lottava Per il diritto Una persona Che aveva il coraggio Di dire alla gente ancora Il suo messaggio Una sola Una sola Non può bastare 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 Non può bastare